guardate che meraviglia uno dei vecchissimi videogiochi ma degli usati flipper ci troviamo a simbario al bar giuliano cioè se vi ricordate erano gli anni novant si tirava la pallina la pallina usciva e poi con questi tasti cercavamo di mandarla sopra ecco questi erano i veri giochi intramottabili che oggi purtroppo hanno sono stati sostituiti dai videogame però guardate che meraviglia questo è il flipper un saluto a tutti da gg j